Panna cotta alla menta con culi di fragole, zucchero, gocce di frutta alla fragola Orogel, panna, latte, foglioline di menta fresca, colla di pesce. Per il culi di fragole useremo delle gocce di fragole Orogel. Dopo le fragole metteremo a bagno la nostra colla di pesce in acqua molto fredda. Ora passiamo alla panna e il latte. La panna, il latte, alcune foglie di menta. Portiamo il composto al caldo facendo attenzione a non fare mai bollire la panna. Il nostro culi è praticamente pronto. Ci prepariamo a filtrare il nostro composto. Il latte e la panna hanno raggiunto la temperatura. Prendiamo la nostra colla di pesce, la strizziamo, la aggiungiamo al composto, una frustatina. A questo punto tutta la nostra colla si sarà sciolta. Filtriamo per cavare tutte le foglie della menta. Passiamo a fare i nostri stampi. Ora i nostri stampi sono pronti, li metteremo in frigo per circa sei ore. Ora che le nostre panna cotte sono pronte, passiamo alla composizione del piatto. Vedete sto incidendo leggermente il fianco del nostro stampino per agevolare l'apertura. Mettiamo un po' del nostro culi di fragole, due foglioline di menta e il piatto è finito. Grazie.